Ciao, oggi ti parlerò del mestiere del secolo, del mestiere più richiesto, tutti vogliono farlo, tutti vogliono diventarlo. Chi è? Di chi sto parlando? Ovviamente del social media manager. Oggi infatti vedremo in questo video quanto guadagna un social media manager e cosa fa nello specifico nella sua giornata tutti i giorni. Quindi guardalo fino in fondo perché ti assicuro che ti rivelerò delle chicche molto interessanti, soprattutto se ti interessa fare questo mestiere. Io sono Marco Doria e mi occupo del job placement dei ragazzi dopo la scuola. Partiamo dalle basi, partiamo proprio dall'inizio. Chi è il social media manager? Possiamo dire che il social media manager è una figura professionale che gestisce la presenza di una determinata azienda sui social network. Ora, cosa sono i social network? Dovremmo saperlo tutti. Facciamo però un piccolo approfondimento. I social network, o meglio ancora, reti sociali tradotte in italiano, sono delle piattaforme online che permettono alle persone di connettersi tramite un profilo pubblico. Quindi io, persona Marco Doria, mi posso connettere con Mario Rossi perché abbiamo gli stessi interessi, ci conosciamo, eravamo amici prima, siamo amici adesso e vogliamo parlare. E' anche però una piattaforma che permette alle aziende di comunicare al proprio target. Cos'è un target? Semplicemente un target è definito quando una profilazione di un determinato gruppo di persone corrisponde a dei parametri. Faccio un esempio, ragazzi di Torino tra i 18 e i 25 anni, generazione Z, sono un target. Oppure mamme di bambini che hanno tra i 30 e i 39 anni, ecco, sono tutti target differenti. Oppure persone interessate alla musica, allo sport, eccetera, eccetera. Quindi, cosa possiamo dire di tutto questo? Che le piattaforme social non sono nient'altro che delle grandi agenzie pubblicitarie che vendono i dati dei propri utenti, quindi gli interessi e le caratteristiche demografiche degli utenti, alle aziende perché poi queste possano fare pubblicità. Cosa cambia dai media tradizionali? Diciamo che facendo pubblicità su Italia 1 non sai alla perfezione chi sta guardando la televisione, ok? Si va per fascia oraria e si intuisce che nella fascia pomeridiana, primo pomeriggio ci sono i ragazzi, la sera ci sono le persone un po' più adulte, eccetera, eccetera. Quindi, prima dei social non era possibile targettizzare in maniera precisa, ora con i social è impossibile farlo e questo è un grande vantaggio per le aziende, soprattutto per chi deve farsi il marketing, quindi chi deve colpire un determinato target con il proprio messaggio pubblicitario. Ora, dobbiamo però dire ancora di più una cosa nello specifico, ovvero che cos'è il marketing? Cos'è questa parola marketing? Il marketing è la strategia interna che un'azienda usa per costruire reputazione e ottenere fiducia dal proprio target. La comunicazione è il mezzo che le aziende usano per comunicare questa strategia, quindi il cappello superiore è la strategia di marketing e poi c'è la comunicazione che attraverso la pubblicità e in canali specifici dà questo messaggio al target, scusatemi, non lo specifico al target di persone prescelte. Esempio classico, sono un'azienda e vendo sneakers, quindi il mio target potrebbe essere appunto la generazione Z. Cosa devo fare? Allora, devo magari lanciare un nuovo paio di scarpe, quindi fare un lancio e per far questo ingaggio un testimonia importante. Ok, per comunicare questa mia strategia, questa mia strategia ovviamente serve appunto per cercare di vendere più scarpe possibile, per farlo mi avvalgo di questo testimonial. Devo comunicarla però questa cosa, ok, che il testimonial X, esempio Cristiano Ronaldo dice che le mie sneakers sono fighissime, per farlo devo comunicare. Per comunicare dovrò scegliere delle piattaforme o dei canali, quindi ci può essere il media tradizionale che è la televisione, ci possono essere i media cartacei che sono le riviste, c'è può essere la cartennolistica oppure advertising out of home, quindi andare a mettere dei cartelli per strada e poi c'è chiaramente tutta un'altra serie di cose tra cui i social network. Ecco, il social media manager è il responsabile della comunicazione pubblicitaria su questo canale, quindi devo saperne di strategia, quindi mi rifaccio al direttore marketing che mi affida i social per comunicare la strategia di marketing. In questo caso, nel caso delle sneakers, mi dirà attenzione che abbiamo questa strategia di comunicazione, devi fare in modo che sui social ci sia nel piano editoriale tutta la contenutistica, tutto l'advertising che parla dell'influencer X, Cristiano Ronaldo, che parla delle mie sneakers. Ora, detto questo, facendo un cappello introduttivo, però dobbiamo capire cosa deve studiare un social media manager per fare questo mestiere. Ci sono sempre due opinioni, quindi dobbiamo aprire un'altra bella parentesi. Da una parte c'è chi dice che bisogna assolutamente avere una laurea per poter svolgere questo tipo di mestiere, questa professione. Dall'altra parte ci sono molte persone che dicono assolutamente no, la laurea non serve a niente, è un mestiere tecnico. Vorrei fare però un approfondimento proprio per non cadere in retoriche che magari vanno a far leva su vendite di corsi, fuffa, eccetera, eccetera. Quindi da una parte è vero che all'università non ti insegnano a fare il social media manager, ti insegnano la teoria accademica di comunicazione o la teoria accademica di marketing e questa è una cosa. D'altra parte è anche vero che per fare questo lavoro assolutamente non è necessaria un'abilitazione professionale, non è necessaria per forza quella teoria. Quindi di base è anche vero che la laurea non serve tecnicamente per farlo, ma è anche vero però che non possiamo dire il contrario, ovvero che la laurea in un mestiere non serva. In realtà la base dovrebbe essere che la laurea sia il punto di partenza. Quindi in una condizione ideale dove uno studente ha la possibilità di scegliere, è ovvio che di base è meglio scegliere di fare una laurea, magari una laurea in comunicazione, e poi crearsi una professionalità tramite un master per potersi inserire nel mondo del lavoro, perché all'università non impari la pratica tramite un master o tramite un'accademia, assolutamente riesci a imparare tecnicamente quello che serve per poter fare questo mestiere. Quindi a patto, ragazzi, che il master, l'istituto che lo eroga, l'accademia sia un'accademia seria. E anche qua potrei aprire una parentesi che parlo per sei giorni, ma torniamo al video. Quindi detto questo, in una condizione ideale la laurea sarebbe ideale, ma si può fare anche senza. Ti faccio un esempio, il caso classico di studenti che sento che vogliono entrare in accademia, tutti i giorni parlo con loro, il caso classico è la persona che ha interrotto gli studi per lavorare e poi si ritrova in una condizione di frustrazione, questo lavoro non mi piace, magari sono andato nella ristorazione per guadagnare due soldi, non ne sono più uscito, ho 35 anni, voglio rimettermi in gioco. Quindi cosa fai? Gli dici vai a prenderti una laurea? Assolutamente no, gli si dà anche a queste persone l'opportunità di studiare. È giusto che sia così, ok? Perché? Perché il social media manager lo puoi fare lo stesso se ti sbatti e studi, tra virgolette, ok? È chiaro che però non possiamo fare tutta l'erba a un fascio, non c'è solo il bianco o il nero, ma ci sono tutte queste sfumature in mezzo che vanno considerate. Quindi senza fare retorica facile, retorica da oratorio, dicendo serve o non serve, dobbiamo valutare il contesto. Di base sono giuste un po' tutte e due le campane. Quello che dico io è, ragazzi, diamoci una sveglia e dove siamo adesso partiamo per migliorare la nostra situazione. Quindi devo iscrivermi all'università, falla e poi fai un master. Non ho già fatto l'università, sto lavorando, ok? Iscriviti direttamente in un'accademia e impara il mestiere. Chiusa la parentesi. E che competenze deve avere realmente un social media manager? Allora, io direi che possiamo elencarle in un piccolo gruppo. Sicuramente la prima competenza che deve avere un social media manager è di grafica. Perché direte voi di grafica se il social media manager non è un grafico? Perché la visione che deve avere un social media manager assolutamente deve partire dall'estetica, deve dare le indicazioni che servono al target. Perché sei tu lì tutti i giorni che vedi quello che succede. Quindi tu devi avere competenze di grafica. La grafica è la prima cosa che il target vede quando pubblichi. Cioè, quando si scrolla sul telefonino, quello che ci attrae è la grafica. Poi, dopo, in un secondo momento, in un secondo piano, andiamo a leggere quello che c'è scritto. Quindi grafica is the first, ok? Prima cosa che devi sapere è avere competenze di grafica. Secondo, devi avere competenze di scrittura, appunto, perché prima guardo l'immagine e poi leggo. Perché devo avere queste competenze quando ce le possono avere gli altri? Le devi avere perché se devi comunicare con l'altro team, se devi sapere di cosa si fa questo mestiere, è ovvio se devi lavorare in batteria, che devi sapere sia cosa sia la grafica, quindi dare indicazioni, e anche sapere cosa scrivere. Ti dico di più, in una cucina il cuoco non sa solo tagliare le verdure, ok? Magari è specializzato al taglio, ma sa come funziona l'intera cucina. E il social media manager deve avere una visione a 360 gradi della strategia di marketing. Infatti il social media manager, come dico spesso, è un digital marketer che è specializzato in social, in questo canale, ok? Quindi abbiamo detto grafica e scrittura, ma deve avere, come stavo dicendo adesso, ovviamente anche competenze strategiche. Poi deve avere competenze di sviluppo web, perché non è possibile che una persona che lavora nei social non sappia lavorare sulle pagine di atterraggio. Quindi talvolta capiterà che la nostra pianificazione deve portare fuori dai social. La nostra strategia ci deve portare sul nostro sito web e io devo avere quelle competenze. Quindi sviluppo web serve. Deve avere competenze di crescita organica. Cos'è la crescita organica? Ti posso fare un esempio pratico. Per crescere organicamente sui social, ti faccio un esempio su Instagram, bisogna studiare una strategia e un piano editoriale che serve appunto per fare una crescita senza l'advertising, ovvero semplicemente con le pubblicazioni, gli hashtag, la community che ci fa salire e sfruttare l'algoritmo, sia sui social che chiaramente sul web. La SEO funziona in maniera organica, ovvero ci sono delle strategie che ci servono per posizionare il nostro sito web più in alto possibile rispetto alla classifica di Google, quindi all'indice di Google. Poi devo avere ovviamente competenze di advertising. Come sono bravo nella crescita organica, devo essere bravo col pay per click. Quindi nelle sponsorizzazioni, soprattutto sul circuito meta, soprattutto sul circuito Google, bisogna avere questo tipo di competenze. Poi chiaramente anche su TikTok c'è il business manager, che è la piattaforma a parte che serve per gestire l'advertising e bisogna saperne di queste cose qua, soprattutto se sei tu che gestisci i social. E' chiaro che a volte ci sono figure, soprattutto nelle aziende più grandi, figure specifiche, però tu devi conoscere tutto quello che succede intorno a te, soprattutto nelle aziende più piccole queste cose te le devi fare tutte tu. Ok? E' vero che qualcuno dice eh ma beh, qua ci sono dieci figure professionali in una, stai parlando di questo, bla bla bla. Sì, un professionista è dieci figure in uno, te lo dico io, che faccio questo mestiere da 25 anni. Poi ovviamente servono competenze di analisi, ovvero tutti i dati che raccogli, tutto quanto deve essere interpretato e soprattutto capito per poi prendere delle decisioni successive. E' vero che avrai il direttore marketing, però tu devi saper comprendere, leggere i report, capire quello che è l'analisi dei dati per muoverti chiaramente meglio nelle strategie successive. Poi ci aggiungo un pochettino di fotografia, che serve perché chiaramente un social media manager deve conoscere la fotografia e conoscere anche quello che è il fotoritocco, video editing per il videomontaggio è un po' di audio editing che male non fa. E ci tengo a specificare che con meno di queste competenze non sei un social media manager e non sei un digital marketer specializzato in social media. Sei un tecnico che deve ancora imparare. Ok? A mio parere questa figura professionale è una figura completa che ha bisogno di queste competenze per poter avere accesso a questo titolo professionale. Quindi io sono un social media manager quando ho queste competenze, altrimenti sei un tecnico che fa qualcosina. Ecco perché non è possibile delegare questo tipo di servizio, questo tipo di lavoro a mio cugino. Ok? Devi essere una persona che chiaramente è un professionista e per farlo devi studiare e tu azienda che vuoi assumere devi assolutamente accertarti che la persona che assumi per far questo sia di competenza. A tal proposito ragazzi è arrivato il momento di parlare dell'Accademia Kama. L'Accademia che in soli sei mesi ti trasforma in un digital marketer e social media manager garantito da me, Marco Doria, che ne sono il direttore e fondatore. Guarda pure le nostre recensioni su Trustpilot per capire cosa pensano gli altri i nostri studenti nello specifico di questa Accademia. Quindi iscrivetevi per diventare social media manager e diventarlo nella maniera corretta. Ora, ci sono tre strade da compiere una volta finiti gli studi. Ok? Quindi ho finito, che faccio? Il dipendente, posso fare il freelance oppure posso fare l'imprenditore. Andiamo a capire nello specifico quali siano queste tre strade. Allora, il dipendente ovvero il manager è quella persona che si affida a un'azienda per fare la propria professione, il proprio lavoro. Quindi, esempio classico, vado in una multinazionale, vado in Coca-Cola e in Coca-Cola sono il social media manager che sto già parlando di una superposizione chiaramente, però per fare un esempio che si capisce e mi occupo un direttore marketing, magari dei responsabili ancora sopra e mi occupo della comunicazione sui social. Quindi, ho un capo che si preoccupa di trovare i clienti, in questo caso Coca-Cola i clienti già ce li ha, però anche se parlassimo di un'azienda un po' più piccola ci siamo capiti, quindi mi procura diciamo i clienti, mi dà uno stipendio e non mi devo preoccupare di quelle cose. A fine mese arrivo e ho lo stipendio. Diciamo che è l'entry level per eccellenza, quindi per imparare la cosa migliore da fare chiaramente è farsi un bel periodo in azienda che male non fa. È vero che anche la situazione in cui si parte dal gradino più basso proprio infatti si inizia proprio a volte anche come apprendisti però è il modo migliore per imparare un pochettino a capire e comprendere come funzionano anche le dinamiche di team. Quindi, fare il dipendente per chi anche ha questa predisposizione a avere un po' più di sicurezza. Guarda quante virgolette ti metto attraverso sicurezza anche perché la sicurezza realmente non esiste in quanto le aziende chiudono le aziende licenziano e quindi se non vai bene non è che hai il lavoro di cittadinanza ti sbattono fuori a calci nel sedere come giusto che sia. Quindi, in realtà pian piano che lavoriamo come dipendenti possiamo chiaramente incastrarci in una situazione migliore quindi sceglierci l'azienda migliore crearci uno stipendio migliore in quanto più professionisti quindi sono più bravo le aziende mi cominceranno a contendere e mi vado a inserire in una situazione più gradevole ma è chiaro che si inizia dal basso quindi bisogna anche accettare che si passi da lì. Poi abbiamo il freelance ah il freelance questa figura mitologica che sembra sempre che non faccia niente abbia un sacco di soldi in realtà è vero è verissimo che il freelance gestisce meglio il proprio tempo quindi gestisce campagne social per altre aziende facciamo diciamo l'esempio classico il freelance che ha contatti con le agenzie di marketing che gli delegano il lavoro quindi hanno loro i clienti dicono guarda tu seguimi i social per questo cliente tu sei un freelance fatturi all'agenzia e ti sei ritagliato diciamo il tuo lavoretto che gestisci negli orari che ti sono più consoni chiaramente rispettando quella che è la pianificazione eccetera eccetera e d'altra parte puoi avere anche tu i tuoi clientini che ti vuoi apprendere insomma ti fai il tuo giro e tutto sommato riesci a gestirti senza avere un vero capo ma avendo collaborazioni sia con aziende che con agenzie insomma gestisci tutto quanto invece poi diciamo per ultimo troviamo la cosa che fa più male ovvero il diventare imprenditore perché dico che fa male perché è l'accezione più masochistica del lavoro quindi chi si mette lì e si carica sulla schiena il trovare clienti assumere dipendenti dargli lo stipendio cercare sempre di mantenere il cliente lavorare sul proprio brand eccetera 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 è vero che io sono di parte perché sono un imprenditore sono nato per essere imprenditore ho questo spirito da quando sono piccolo però è anche vero che io mi sono fatto tutta la gavetta sono partito proprio da apprendista lavorando quando ancora non c'era internet quindi c'era ma non si usava nel marketing lavoravamo sulle riviste mi sono fatto tutta la trafila poi sono diventato freelance e poi sono diventato imprenditore quindi in 25 anni ne sono passate tantissime le ho fatte tutte ma quello che posso dirti è che io ero già predisposto a essere un imprenditore quindi alla domanda cosa sia meglio di tutto questo è che ne so io dipende da te tu cosa sei più predisposto se lanciassi una moneta con tre facce una moneta triangolare trapeziudale un po' strana cosa vorresti che uscisse quindi dipendente freelance imprenditore se è una persona che preferisce la sicurezza di uno stipendio se è una persona che predilige la gestione del tempo se è una persona che vuole crescere l'imprenditore sappi che ha come scopo finale non di far soldi ma di far crescere l'azienda i soldi sono una conseguenza di quanto tu sei bravo sul mercato però in realtà tu non lo fai per denaro tu lo fai per vedere l'azienda crescere il tuo brand crescere il tuo bambino quindi queste sono le differenze dipende molto dalla tua predisposizione c'è chi non è predisposto per essere un manager c'è chi non è predisposto per essere un freelance perché vuole qualcuno che gli dia il lavoro gli dia i clienti non voglio saperne niente di soldi il freelance si sa che si deve far pagare deve un po' inseguire i clienti ma dall'altra parte ha più tempo il libro si gestisce come vuole e invece l'imprenditore è soltanto quello che subisce tutto però è anche vero che l'imprenditore in caso di crescita è quello che guadagna di più l'imprenditore in caso di crescita è quello che ha più soddisfazione perché gestisce chiaramente un impero però lì bisogna arrivarci e questa è un'altra storia che vedremo in un altro video e adesso è il momento di parlare dei guadagni cioè sei arrivato a questo punto del video proprio perché volevi sapere quanto guadagna un social media manager io lo so che tu hai guardato questo video solo per sapere quanto cavolo si guadagna a fare sto mestiere e adesso te lo dico però mi raccomando guarda questo video fino in fondo perché dopo ti dirò altre cose interessanti questo ovviamente non è un trucco per farti vedere questo video parliamo di denaro allora se apriamo il sito Glassdoor vediamo che la media di un social media manager è 44.947 euro che dobbiamo ovviamente considerare l'orde facendo un rapido calcolo potremmo diciamo dire che lo stipendio netto viaggia tra 1400 euro e 1800 euro come stipendio diciamo possiamo dire che è un impiegato medio insomma non alto chiaramente ma medio però stiamo parlando anche di figure entry level cioè da junior a non dico figure senior ma un po' sotto quindi medio ecco un medium ora è vero che appena entro prendo 1800 no io ti dico proprio avendone formati a migliaia sai che Kama la scuola che dirigo è la scuola oggi più importante per diventare social media manager ti dico subito che no ok si entra con cose un po' più umili poi magari un 1400 lo strappi però già devi saper dimostrare qualcosina la cosa più facile è che ci arrivi dopo un annetto due ok devi lavorare è un lavoro di impiegatizio ma questo non toglie il fatto che tu ci possa arrivare abbastanza in fretta e tu dirai ma da sempre da manager si può salire su queste cifre si può fare più soldi certo che puoi guarda io ti dico che magari la carriera poi volge su altre cose nel senso che da social media manager passi a essere responsabile marketing e magari direttore marketing un direttore marketing quotato prende anche 100.000 euro nette l'anno ok stiamo parlando però di un caso estremo non pensare che ok adesso esco dalla panetteria dove faccio il commesso tra un annetto faccio 100k queste sono cavolate è una carriera lunga durissima cioè adesso io se andassi a fare il direttore penso che potrei ambire tranquillamente a quella cifra però io sono un imprenditore lavoro nelle mie aziende quindi non mi interessa e questo potrebbe essere comunque sempre argomento di un altro video ora abbiamo definito più o meno quelli che sono diciamo i dipendenti i manager ora però dobbiamo parlare dei freelance qual è la regola dei freelance che ne so io ragazzi non è facile cioè come faccio a dirti quanto guadagno un freelance dobbiamo fare alcune considerazioni allora non c'è una regola partiamo da questo presupposto fino all'anno scorso più o meno la maggior parte dei freelance era in regime forfettario quindi vuol dire che avevano una soglia massima di 60.000 euro mi sembra che oggi con la flat tax la soglia sia 85.000 euro ok però settiamoci sui 60 ti posso fare qualche esempio pratico ora 60.000 euro sappiamo che abbiamo una forbice che va da 0 a 60.000 conosco un sacco di freelance che arrivavano a 60.000 verso ottobre quindi a mese 10 e dicevano poi ciao non fatturo più niente mi faccio due mesi di vacanza perché se no sforo oppure dicevano senti fatturamela a gennaio perché non ci sto più dentro ora ce ne sono parecchi che fanno quei soldi però noi facciamo un conto ecco sappiamo che un cliente magari può valere da 300 un cliente piccolo fino a 2000 euro al mese da seguire da freelance quindi se voglio lavorare con clienti piccoli ne dovrò avere più o meno 10 e quindi una media di 3000 euro arriviamo a 36.000 oppure un paio grossi arriviamo a 48.000 ecco sappiamo che più o meno questo è il numero di clienti da avere ne conosco tanti che hanno questo tipo di clienti è chiaro che soldo più soldo meno siamo là ma conosco anche tante persone che non fanno una lira ve lo posso assicurare non sono capaci erano una partita IVA e poi chiudono e vanno a fare i dipendenti però è normale questo è il mercato il mercato è libero invece se tu sei un imprenditore o un'agenzia è un discorso a parte veramente non ci sono limiti non posso dire niente conosco agenzie milionarie conosco agenzie che non hanno i soldi sono sotto terra proprio sono mezzi truffatori fanno schifo assumono solo stegisti insomma non hanno neanche i soldi per mangiare e ragazzi il mercato è libero e come dice la costituzione l'articolo 30 è qualcosa ce la giochiamo è chiaro che non si può fare però nulla quindi si può si considerare quanto vale un cliente come abbiamo fatto col freelance però considera anche che l'imprenditore è anche quella persona che ha un team quindi lo deve pagare quindi non si sa i costi che ha sono molto spesso più alti il freelance è bello fresco con la spalmas con i piedi sul tavolino del bar col mojito no non è vero questa è un'altra leggenda freelance molto spesso lavora in co-working lavora a casa se si ci sono i nomadi digitali è possibile farlo ma sono una piccola parte adesso anche quello cerchiamo di smontare un po' questo mito che sono tutti alle Canarie sono tutti a Palma de Mallorca non è vero ce ne sono tanti che lo fanno tanti sono a Dubai che sono truffatori ma tante anche sono persone che cercano di lavorare quindi non sono tutti così ne conosco la maggior parte che sono in Italia che si fanno un paiolo tanto e non sono a sbocciare a Dubai ora cerchiamo di capire cosa diamine fa un social media manager durante la sua giornata cioè che fa sto ragazzo dalla mattina alla sera perché se io voglio fare questo mestiere vorrei anche capire questo si alza e che fa ci sono delle chiaramente delle task che comprendono proprio il day by day di questo tipo di mestiere quindi possiamo dire che in primis è la cura del piano editoriale ovvero la predisposizione secondo calendario dei contenuti che deve andare a pubblicare per il brand revisione dei contenuti quindi va a prendere dei contenuti che magari ha fatto l'influencer X ti faccio un esempio l'influencer X mi ha fatto 10 video dobbiamo perché abbiamo questa strategia per questo lancio ok il direttore marketing mi dice ok facciamo così io ricevo i video dall'influencer li metto a calendario dove devono essere pubblicati e poi cosa devo fare ovviamente me li revisiono quindi devo andare a vedere che tutti i contenuti siano secondo le linee guida del brand secondo le linee guida che gli abbiamo dato all'influencer ovviamente in tutto questo io devo essere bravo a comunicare con il team e con i collaboratori perché chiaramente ho il direttore marketing che mi dice cosa fare c'è il grafico c'è il copy c'è tutto quanto oppure io sono tutte queste persone come dicevo prima a volte sono anche il direttore perché quando sei in aziende piccole è così e a volte sei anche i collaboratori sei l'influencer cioè fai tutto te in sostanza può capitare però nel caso di team devi essere molto bravo a comunicare con loro tutto il giorno ci sono task per esempio su software tipo Asana su Trello su Stack dove ok ci sono delle task da fare si parla si comunica ci si dice ci sono i gruppi Whatsapp si comunica con il team oppure in ufficio è chiaro che bisogna essere molto coordinati e persone molto predisposte alla comunicazione quindi oltre a essere precisi perché c'è un piano editoriale oltre a essere precisi nella revisione bisogna essere anche bravi collaboratori i cani sciolti vi assicuro che questo mestiere non lo fanno perché è un lavoro assolutamente di affiatamento con gli altri poi cosa fa chiaramente si occupa delle pubblicazioni gestisce i commenti ogni tanto c'è il community manager ma se torniamo alla piccola agenzia di prima dove sono tutto io farò anche quello quindi in base alle linee guida rispondo magari gestisco una parte di customer care persone che hanno comprato hanno partecipato al lancio mi scrivono sulle pagine voglio saperne di più eccetera eccetera faccio questa cosa qua e infine analizzo i dati quello che dicevamo prima la parte di analisi questo è solitamente quello che fa durante la giornata un social media manager quindi oltre a bere 700.000 caffè durante i lanci impazzire nel cercare di farsi dare le cose da chi deve pubblicare dal copy eccetera impazzire dammelo ritardo cavoli se è anche uno che analizza i dati alla fine dice ok abbiamo fatto questo totalizzato quest'altro va dal direttore si prende il paiolo oppure dal direttore questo è quello che quello che succede normalmente nella vita di un social media manager in più il freelance è diciamo che ha ancora la gestione dei soldi quindi oh mi devi da pagare oh guarda che è finito il mese oh guarda che ti ho fatto la fattura eccetera eccetera è anche diciamo il compito l'owner di cercarsi sempre nuovi clienti perché insomma diciamo che i clienti escono e devono anche entrare devi più o meno mantenere un equilibrio e in più l'agenzia ha ancora la rottura di scatole di dover gestire il team il brand insomma quello che abbiamo detto prima ecco quindi diciamo che hai capito come funziona la giornata di un social media manager ora parliamo del mindset perché è anche giusto capire che mentalità deve avere una persona che vuole fare questo mestiere allora sicuramente come abbiamo visto ha una componente creativa quindi è una persona che creativamente sa come muoversi sa cosa fare sa ne capisce di estetica ha buon gusto anche perché si occuperà lui di dire guarda che non mi piace come sta sta cosa sul wall di instagram non mi piace come questa copertina insomma non rende questa bla 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 insomma deve avere questa componente è chiaro ma non solo non può essere il pittore che è solo un pazzo che poi non riesce a mantenere un appuntamento una puntualità perché è una persona molto precisa il social media manager perché deve rispettare le scadenze deve assolutamente essere molto preciso con la pianificazione del piano editoriale perché se è un attimo che perdi le staffe perché tutti quanti cercheranno di tardare e tu non sei stato preciso sei tu responsabile di quel canale quindi componente creativa e componente tecnica quindi devi essere anche un bravo tecnico preciso e puntuale quindi mezzo nerd da una parte programmatore mezzo creativo pittore grafico insomma questo è il disegno che mi piace fare del social media manager ovviamente è una persona empatica che capisce le persone perché stai lavorando sui social dove la comunicazione sui social è dura è drastica perché le persone insultano ci sono gli ether però a volte nasconde delle critiche che servono quindi bisogna leggere quello che dicono le persone ci va empatia e chiaramente anche il lavoro in team come dicevo è importante perché tu gestirai dei collaboratori avrai delle persone che lavorano con te per te hai un capo quindi insomma se non sei una persona comunicativa difficilmente lavorerai nella comunicazione è chiaramente una persona flessibile dinamica perché ci va flessibilità ragazzi i social cambiano ogni giorno ogni giorno meta cambia la piattaforma fa delle cose nuove quindi tu da social media manager sei una persona che dinamicamente devi cambiare devi essere flessibile cioè capire ok questo è cambiato devo aggiornarmi aggiorniamo la cosa cambiamo quello questo non si può più fare la normativa pubblicitaria a cazzarola apriamo la parentesi normativa pubblicitaria non la voglio aprire perché poi è diciamo la condanna la spada di Damocle sulla testa dei social media manager è la normativa pubblicitaria perché ogni tanto i social si svegliano e ti bannano e tu non capisci perché ti vai a rileggere la normativa e a volte non hai fatto niente però fa parte del gioco è così quindi ecco perché bisogna essere flessibili e dinamici soprattutto non arrabbiarsi perché è veramente cioè non sempre dipende da te e tu subisci anche le ondate che insomma sono gli shitstorm magari di comunicazione le cagate che fa magari meta e poi non c'è l'assistenza non ti rispondono ti bannano ti chiudono insomma una serie di cose che ovviamente fa parte del mestiere chiaramente gli piace la formazione continua perché come diciamo prima dobbiamo essere elastici e quindi dobbiamo essere persone che studiano continuamente e imparano cose nuove ora però tu proprio tu che stai guardando questo video ti stai chiedendo una cosa specifica ma cosa devo leggere per capire meglio questa professione allora ragazzi esiste un super libro che ogni social media manager e digital marketer deve avere nella propria libreria qual è? è questo e guarda caso l'ho scritto io come diventare ricchi no non è vero come guadagnare online in maniera professionale edito da Oply lo trovi sia in libreria che eccolo qua su Amazon Marco Doria che sono io e dentro ci sono dei capitoli molto interessanti quindi parliamo di temi legati al denaro la storia del denaro come è nato il denaro perché c'è il denaro e perché le persone fanno cose per il denaro quindi le abitudini di acquisto delle persone la razionalità o l'irrazionalità legata all'acquisto quindi la scienza comportamentale legata al denaro abbiamo poi tutti i capitoli sulle manipolazioni pubblicitarie capire come la manipolazione può avvenire una manipolazione una persuasione insomma facciamo veramente un approfondimento pazzesco per tutto quello che riguarda i mestieri digitali andiamo a vedere gli schemi di guadagno andiamo a vedere cosa hanno fatto gli altri e soprattutto capiamo come costruire un brand che funzioni in maniera digitale quindi tutto quello che riguarda il guadagno online lo trovi in questo libro mi raccomando vallo a comprare e ora concludiamo il social media manager è una professione che attira moltissimo i giovani di oggi in quanto è un qualcosa che puoi metterci di tuo a livello creativo però puoi anche esprimerti tecnicamente quindi se sei un po' nerd e geek ti piace la tecnologia e ti piace l'informatica vai con il social media che è bellissimo e ovviamente serve perché oggi le aziende hanno un sacco bisogno di persone che sappiano gestire i social network in quanto come abbiamo visto prima sono la piattaforma migliore il canale migliore oggi per prendere un target specifico ed è un lavoro appunto molto richiesto e molto pagato quindi pagato su quello che abbiamo visto sui parametri che abbiamo visto prima mi raccomando se questo video ti è piaciuto devi iscriverti al canale e mettere anche un bel like se mi lasci un commento mi farà anche molto piacere da Marco Dori è tutto ciao